A Cireale è istituito nell'ufficio Tributi un gruppo speciale volto a ottimizzare i controlli anti-evasione. Il Palavolcan da risistemare dopo la tromba d'aria di novembre, sabato pomeriggio programmato un corteo di sensibilizzazione per accelerare gli interventi. Calcio un rigore di Messina in avvio di ripresa permette alla Cireale di superare il Modica, Cireale adesso a soli tre punti dal terzo posto. Bentrovati con reporter tra gli altri argomenti del nostro giornale riflettori sulla villa Belvedere di Acireale. Finalmente era ora la soprintendenza ha dato l'ok all'abbattimento degli alberi malati dai quali si erano staccati pericolosamente come si ricorderà alcuni grossi rami. Viene avallato il programma di abbattimento ipotizzato dagli agronomi della Commissione di Verifica istituita dall'amministrazione comunale. Riflettori anche su Pozzillo, salvaguardia dell'ambiente e del territorio SOS del consigliere Rito Greco su un vecchio e cadente immobile in uso un tempo alla Pozzillo Acque Minerali. Ad Acicatene invece via libera al censimento dei contatori d'acqua. A Giarre invece domani giornata campale per la circolazione veicolare. Chiusa al transito veicolare a Santa Maria la strada un'arteria importante, la via Ruggero I. Questo è altro all'interno del nostro TG Reporter che andiamo ad aprire con le notizie provenienti dall'ufficio tributi del comune di Acireale, istituita una task force anti-evasione. Ottimizzazione delle entrate tributari, una programmazione dell'assessore alle finanze Alessandro Oliva partita da lontano con varie iniziative volta a portare nelle casse comunali denaro corrente. Adesso perciò le attenzioni si stanno concentrando sull'attività di recupero dell'evasione tributaria nel miglioramento dei risultati degli accertamenti che si va quindi a tradurre nel principio di equità fiscale. Ecco allora venire fuori un progetto che comprende un gruppo limitato di dipendenti dell'ente chiamato a svolgere un lavoro più capillare in grado perciò di fornire risposte concrete dalla maggiore qualità. Un'attività da svolgere prevalentemente fuori dal normale orario d'ufficio. Le linee guida dettate richiedono così la verifica delle posizioni ICI integrandole e comparandole con le posizioni Tarsu, privilegiando se possibile le verifiche sulle opere private dalla maggiore cubatura presenti nel territorio. L'attività dovrà riguardare inoltre la verifica delle posizioni non adeguatamente trascritte o comunque non abbinate in seguito a errori o mancate comunicazioni da parte dei contribuenti. Per tale motivo così sono stati previsti in bilancio 54 mila euro che comunque vengono ad essere collegati con un riscontro di natura finanziaria da parte dell'ente. In pratica la somma accantonata viene ipotizzata come il 5% degli incassi effettivi di recupero dell'ICI e sui ruoli formati che attengono all'attività dell'esercizio finanziario 2014. Spazio adesso alla cronaca nera, sono finite in manette a Sant'Alfio due donne, Alfia Grazia è fortunata restivo, 20 e 40 anni, con l'accusa di avere spacciato soldi falsi. Le due donne da giorni giravano l'Interland a bordo di una vettura rifilando ai commercianti banconote false. Ieri le due sono state notate a Sant'Alfio dal comandante della locale stazione dei Carabinieri che libero dal servizio le ha dapprima pedinate, poi colte sul fatto, mentre tentavano di acquistare in un negozio di alimentari succhi di frutta e brioche con 50 euro falsi. E' stato poi appurato che nell'arco della mattinata le donne avevano piazzato già 200 euro di banconote contraffatte, altri due pezzi da 50 euro falsi sono stati poi trovati in casa delle due. Il Palavolcan di Corso Italia da resistemare dopo la tromba d'aria dello scorso 5 novembre, sabato pomeriggio, programmato un corteo di sensibilizzazione per accelerare gli interventi, per fare presto. 5 novembre, 5 marzo. Quattro mesi e le conseguenze della tromba d'aria che mise in ginocchio per qualche giorno a cereale si fanno ancora sentire. Guardi il Palavolcan infatti e ripensi al mini ciclone di novembre ma anche ai continui problemi logistici con i quali sono costretti a fare i conti le società sportive che gravitano nella struttura di Corso Italia e le associazioni che lì hanno la loro sede e svolgono le loro attività. Come la 104 orizzontale Onlus che si è vista costretta a ridurre le proprie attività al minimo e che adesso lancia un grido d'allarme organizzando un corteo pacifico di protesta per sollecitare a fare presto nella sistemazione dell'impianto perché i danni aumentano di pari passo con i disagi. Noi invitiamo a tutte le associazioni, a tutte le forze politiche ma anche invitiamo ai cittadini ma più che invitare il cittadino è sposare questo corteo alla città perché non è giusto che è una struttura di questa dopo già cinque mesi sta piovendo giorno per giorno e sta cadendo tutto il tonico pronto, tutto per terra e una cosa del genere non lo possiamo lasciare così. Che succede? C'è stato un privato che voleva dare dei soldi per tamponare ma non è stato voluto perché dicevano che a gennaio risistemavano questo palazzetto, come si può dare una data questo non l'ho capito e quindi invito l'amministrazione di fare un tavolo dopo questo corteo tecnico dove si parla e si dice una data ben precisa di quanto hanno intenzione di dare questa struttura di nuovo, di restituire questa struttura alla città. Ancora noi come associazione non abbiamo neanche una stanza dove poter fare le terapie ai ragazzi in serie a rotelle che le facciamo perché non sono tutti che si possono permettere di fare delle terapie a pagamento. Quindi noi avevamo delle persone che venivano a fare queste terapie gratuitamente, restituiamo un servizio alla persona più disagiata e l'amministrazione ha fatto finta finora di non sentire. Il corteo partirà alle 16.30 dall'incrocio tra la via Giovanni Verga e il Corso Italia ma sarà un corteo simbolico, un modo per dire no ai tempi burocratici che non permettono di far presto e di sistemare subito il Palavolcan. La luce in fondo al tunnel però c'è e si vede già ed è da leggere in tal senso l'incontro di stamattina tra il presidente del GIS che gestisce di fatto il Palavolcan Paolo Panebianco e il sindaco Roberto Barbagallo che ha rassicurato gli sportivi e tutta la cittadinanza circa gli imminenti lavori di ripristino del Palavolcan. In attesa del decreto di finanziamento infatti la protezione civile regionale ha richiesto all'amministrazione lo schema degli interventi urgenti tra cui c'è un progetto definitivo per la riqualificazione del Palavolcan che impegna 400.000 euro. Questa sera in consiglio comunale, ha affermato il primo cittadino, farò una comunicazione per informare i cittadini su come saranno distribuite le risorse della protezione civile regionale. Una parte andrà al pubblico, il resto tramite un percorso trasparente sarà utilizzato per cercare di dare un contributo ai cittadini più danneggiati. Solo un contributo perché ricordiamo purtroppo che al momento abbiamo solo 3 milioni della protezione civile regionale e un'assenza assoluta di risposte dal Ministero. Per il Palavolcan, ha poi continuato a Barbagallo, siamo in dirittura d'arrivo. Inizialmente avevamo pensato all'accensione di un mutuo da 500.000 euro che, ricevuta la notizia del finanziamento della regione, sono stati restituiti alla Cassa dei depositi e prestiti per non rischiare di gravare sul cittadino. Il progetto del Palavolcan, ha poi aggiunto l'assessore allo sport Francesco Carrara, è stato già redatto e inviato alla regione. Un progetto completo di recupero definitivo dell'impianto e non un semplice tampone. Non appena il progetto diventerà esecutivo, dunque bandiremo la gara per i lavori. Dal Palavolcan ad un'altra questione molto attesa in città ad Acirale, la riapertura della Villa Belvedere. È giunto il parere, finalmente, della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania, il parere sulla riqualificazione della villa. Nella nota invita il Comune di Acirale alla sostituzione dei 15 alberi oggetto della previsione di abbattimento avanzata dagli esperti agronomi della Commissione di Verifica, istituita, come si ricorderà, dall'amministrazione in seguito alla caduta di grossi rami a pochi mesi dalla riapertura dopo i lavori di riqualificazione. Convocheremo tutti ad un tavolo, afferma l'assessore ai lavori pubblici Nando Ardita, per iniziare in tempi celeri un percorso condiviso che porti all'abbattimento e alla sostituzione delle piante, aspettavamo il parere della Soprintendenza per avviare il percorso che ci consentirà di restituire la Villa Belvedere agli Acesi. Restiamo nell'ambito della salvaguardia dell'ambiente e del territorio e concentriamo le nostre attenzioni su Pozzillo. L'ESSO-S viene lanciato dal consigliere comunale Rito Greco. Parlando di salvaguardia dell'ambiente e del territorio, solitamente le attenzioni su Pozzillo si concentrano sull'ex stabilimento della Pozzillo, dove, come è noto, la copertura dei capannoni e in fibre di amianto che destano un poca apprensione nella comunità del posto. Tardano infatti i lavori di bonifica della struttura, ma stavolta l'ESSO-S viene lanciato su un immobile in uso sempre alla Pozzillo Acque Minerali, quindi di proprietà delle Terme, in pieno centro, a pochi passi dalla fonte, dove tanti cittadini quotidianamente vanno ad approvvigionarsi d'acqua. Una struttura che è ormai un relitto industriale incontrollato, sul quale necessitano interventi urgenti. Da qui l'intervento del consigliere comunale del posto, Rito Greco. Quella è una struttura che ormai è diventata anche pericolosa, dico io. Mi sono impegnato in passato a fare sì che venisse costruita una barriera di tavole, per fare sì che preservasse i bambini, l'accesso ai bambini, a quanti altri voglio dire si avventurano ormai in quello che è un mondo da scoprire. Però è un relitto industriale, un relitto industriale che non è controllato, che dal punto di vista della sicurezza comincia a mostrare i segni molto evidenti. Vi sono infiltrazioni di acqua e quindi ho preoccupazione anche del pericolo di possibili crolli. Ho chiesto in aula all'amministrazione comunale di provvedere a creare, a fare sì che si crei un tavolo tecnico con l'ingegnere Bosco e il commissario delle Terme per discutere della possibile soluzione del problema in via definitiva, ma nel contempo e nel frattempo di provvedere anche a fare un telone che nasconda quelle tavole e ci riporti l'immagine di quello che era l'immobile della Pozzillo nei fa stenditi. Sull'argomento interviene l'assessore comunale Francesco Fichera. Per quanto riguarda la struttura pericolante cui fa riferimento il consigliere greco, come ho già risposto in consiglio comunale, dice sul suo suggerimento l'amministrazione interpellerà il commissario delle Terme, l'ingegnere Bosco, e lo inviteremo ad un tavolo di confronto per risolvere definitivamente la questione. Restiamo sul tema parlando di arredo urbano. Il comune intanto, anche se con pochi fondi a disposizione, interviene a tutela del decoro. Una sezione guidata dal geometra Giuseppe Pavone, con solo qualche mese di vita operante nell'ambito della ripartizione lavori pubblici diretta da Nandardita, che è stato fra i promotori del tutto. Si tratta infatti di attenzionare l'arredo e il decoro urbano, così da rendere la città e le frazioni, almeno queste sono le finalità, più bella, accogliente e vivibile. Ecco allora venire fuori due iniziative che vedono nel complesso una spesa di 20.000 euro, con somme provenienti dal bilancio comunale. Si parte quindi con interventi di cancellazione iscritte su fabbricati di proprietà comunale, oltre poi a provvedere alla rimozione di elementi deteriorati e non idonei, nonché alla manutenzione di elementi di arredo. L'unità operativa prevede inoltre interventi di collocazione e sostituzione di arredi, volte a migliorare il contesto che, allo stato attuale, al di là del salotto della città, Piazza Duomo. Per il resto si presenta spoglio e priva, per prima cosa, di quel tocco di verde con vasi, piante e fiori in grado di offrire una piacevole visione. Ripulire e rendere la città più bella, ha sostenuto l'assessore Ardita, è l'obiettivo che insieme al sindaco Roberto Barbagallo ci si è dati, anche su sollecitazione di tanti accesi. Certamente non sarà semplice, ha concluso Ardita, ma si deve rendere più appetibile all'esterno nazireale, per cui è necessario tutti rimboccarsi le maniche. Parliamo d'altro, ci spostiamo a Giarre, pace fatta questa mattina tra i sindaci del distretto sociosanitario di Giarre. Nei giorni scorsi alcuni sindaci, come si ricorderà, avevano lamentato il fatto di non essere stati coinvolti nella battaglia intrapresa dal primo cittadino di Giarre, Roberto Bonaccorsi, in difesa dell'ospedale. Bonaccorsi che da una settimana ormai ha trasferito il proprio ufficio dentro l'ospedale di Giarre. Questa mattina invece il sindaco di Giarre ha incontrato i colleghi di Piedimonte, di Fiumefreddo, Riposto, Milo e Santalfio. Tra tutti i sindaci si è raggiunta piena intesa sul da farsi. Tutti hanno concordato sulla necessità che sia corretto il decreto che l'assessore regionale alla sanità ha emesso a gennaio, assegnando solo 16 posti letto per acuti all'ospedale di Giarre. Il sindaco Bonaccorsi prenderà ora contatti nuovamente con il direttore generale dell'ASP Catania per un nuovo incontro a cui inviterà anche i colleghi sindaci del distretto socio-sanitario. E adesso invece parliamo di viabilità. Il sindaco Bonaccorsi infatti ha emesso un'ordinanza che interessa la viabilità di una parte importante della città per la giornata di domani. Domani si attende a Giarre una giornata campale per la circolazione veicolare. Su richiesta infatti della società F Costruzione, ditta che sta eseguendo i lavori di reggimentazione idraulica e consolidamento nella frazione di Santa Maria la Strada, il sindaco di Giarre Roberto Bonaccorsi ha emesso un'ordinanza con cui ha disposto per domani, dalle ore 6 alle ore 20 e in ogni caso fino al completamento dei lavori, la chiusura al transito veicolare in ambedue i sensi di marcia della via Ruggero I, nel tratto compreso fra la via Sacerdote Penturo e il Ponte Nuovo. I veicoli provenienti da sud e diretti verso Messina verranno deviati dal Corso Italia verso il Comune di Riposto, mentre quelli provenienti da nord e diretti verso Catania verranno deviati a cura dal personale del Comune di Mascali, come da accordi intercorsi, verso il Comune di Riposto. I contravventori saranno puniti ai sensi delle vigenti disposizioni e l'amministrazione non risponderà per eventuali danni derivanti dal mancato rispetto dell'ordinanza. La chiusura totale dell'importante arteria stradale, snodo nevralgico della circolazione veicolare giarrese, si rende necessaria per motivi di sicurezza al fine di consentire alla ditta di effettuare uno scavo molto profondo per collocare i manufatti in cemento. Il titolare della stessa impresa esecutrice, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale, è incaricato di apporre la relativa segnaletica nonché l'installazione di un impianto semaforico che disciplini il traffico veicolare. I lavori saranno subordinati alle condizioni meteo, in caso di piogge intense la chiusura della strada sarà rinviata. Torna a riunirsi questa sera ad Acireale il Consiglio Comunale, la prima di sette sedute calendarizzate per il mese in corso, orario di prima convocazione alle ore 19, in primo piano le valutazioni sull'ipotesi di bilancio partecipato, anche se la partecipazione è davvero tiepida, almeno per quello che è stato riscontrato a poche ore ormai dalla chiusura delle domande. Prendono il via oggi, restiamo ad Acireale, nella chiesa dell'oratorio di San Filippo Neri, le celebrazioni in onore di Giovanni Battistarista che culmineranno domenica nella giornata diocesana pro beatificazione del venerabile. Stasera alle 19 la recita del Santo Rosario seguirà la celebrazione eucaristica. Adesso ci fermiamo, spazio pubblicitario, a tra poco. Non è mai troppo tardi! All'Istituto di istruzione superiore Filippo Brunelleschi Acireale, corsi serali per il turismo, per coloro che intendono iniziare, proseguire, completare gli studi, conseguendo un diploma di tecnico per il turismo. Un diploma utile per comunicare efficacemente in tre lingue comunitarie, diventare programmatore turistico in agenzie di viaggi, guida turistica, direttore in strutture del terziario, animatore turistico, hostess o steward in manifestazioni, compagnie aeree o di navigazione. La scuola con strutture all'avanguardia è dotata di laboratori, aule informatiche, biblioteca. Istituto di istruzione superiore Filippo Brunelleschi Acireale, via Giovanni Verga 99, per info 095 613 60 05. Non è mai troppo tardi! Corsi serali per il turismo! Iscriviti! Da Ulisse i saldi fanno i saldi! Se compri un articolo in saldo e poi ne aggiungi un altro, ottieni un 10% di sconto sul primo e un 20% in più sul secondo. E se ne compri 3, 4, 5? Avrai un 30, 40, 50 fino al 100%! Solo sulle scarpe? Ma no! Su quello che vuoi! Da Ulisse, borse, valigie, abbigliamento sportivo, accessori e tanto altro! Ulisse, la vita un passo alla volta! Petit Catania, da 0 a 12 anni abbigliamento in total look per cerimonia o per essere dolcemente elegante sempre! Abiti comunione, battesimo, damigelle, paggetti e ancora Angolo Outlet per risparmiare e vestire sempre con eleganza! Da antiche ricette siciliane nascono artigianalmente dei liquori dal gusto unico, le antiche delizie. Scegliamo con cura agrumi provenienti da agricoltura biologica, frutta, foglie e spezie non trattate per garantire la genuinità ai nostri prodotti. sapore e colore sono il risultato di una macerazione del tutto naturale. Degustare uno dei nostri rosoli regala i sensi, immagini e profumi della nostra terra. Le antiche delizie, produzione artigianale di liquori, creme, marmellate, conserve anche in elegantissime confezioni regalo. Vendita in grosso e dettaglio. Sede produzione a Valverde in via dei Belfiore 4244. Le antiche delizie, i sapori della natura. Topolinia Sculla. Accompagniamo per mano nella crescita i vostri bambini. Alla Topolinia c'è il nido primavera, la scuola materna, la scuola primaria. Esistono tre modi per insegnare. Col timore, con l'ambizione, con l'amore. Noi abbiamo rinunciato ai primi due. La nostra scuola è dotata di ampi spazi all'aperto, aule luminose, salone conferenze, teatro, palestra con istruttori hip hop, coro di voci bianche, laboratori pomeridiani. Siamo aperti dalle 7.30 alle 19, oltre che alle esigenze della famiglia e alla multiculturalità come occasione formativa e di crescita. Topolinia Sculla. Via Arcangelo Raffaele 2, ACI Reale. Se sei grande per frequentare una ludoteca per bambini e vuoi scoprirne una per ragazzi, Ludorama, la prima ludoteca dedicata ai ragazzi. In un ambiente sano e controllato, giochi da tavolo, tornei di videogiochi, Xbox, Playstation, centro autorizzato giochi di carte, Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh! Force of Will. Da Ludorama, tutti i giochi sono anche in vendita. Vasto assortimento di giochi da tavolo, action figures. Da marchi come Asbro, Lego, giochi uniti. Materiale per modellismo statico e dinamico Warhammer. Ludorama. Via Giovanni Verga 78-80, ACI Reale. Per info 095 28 62 387. Ci trovate anche su Facebook. Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare il tempo. Una storica frase di Henry Ford, imprenditore statunitense fondatore della Ford Motor Company. Noi la crediamo ancora attuale. Non perdere tempo. Chiamaci Radio Etna Espresso 095 89 46 16 o Info chiocciola Radio Etna Espresso punto it. Seconda parte del nostro giornale. Parte la rivoluzione dell'acqua ad ACI Catena. Alvia il censimento dei contatori installati nelle abitazioni e da dicembre si attiva così il nuovo sistema di bollettazione del consumo d'acqua sulla base dell'effettivo utilizzo. Si tratta di un vero e proprio censimento non di persone ma di contatori per il rilevamento del consumo idrico già installati nelle abitazioni al fine di completare la dotazione dei misuratori e probabilmente già a dicembre rimodulare il sistema di fatturazione del consumo d'acqua che ad ACI Catena nel corso degli anni ha alimentato polemica a non finire perché ad oggi vige il sistema tariffazione unica ritenuto sperequativo e penalizzante per chi possiede abitazioni in appartamento e non in villa oppure tra famiglie più o meno numerose. Clamorosa poi alcuni anni fa la segnalazione di un'anziana che vivendo da sola dovette pagare il canone annuo uguale a quello del dirimpettaio che fortuna sua dimorava invece in villa con prato verde e rigoglioso perché costantemente irrigato. Nel giro di 4-5 settimane assicurano dall'amministrazione comunale il censimento verrà aperto e completato. Si passerà quindi alla installazione dei contatori nelle utenze oggi prive dei misuratori così da attivare il sistema di telelettura del consumo d'acqua già a partire da dicembre. Il sindaco Ascenzio Maesano ha chiesto alla ditta di agire in fretta al fine di assicurare nel più breve tempo possibile equità fiscale e mettere dietro le spalle la vecchia bolletta unica da 175 euro. Il nuovo sistema è previsto dal capitolato del project financing verato dal comune con la ditta esecutrice dei lavori. Project che oltre al controllo del sistema prevede pure la costruzione di quattro case dell'acqua ad Aci Catena Centro, Aci San Filippo, Vampolieri, San Nicolò. La basilica collegiata San Sebastiano di Aci Reale comunica che in occasione della giornata nazionale dei musei ecclesiastici in programma sabato e domenica prossimi all'interno delle sale del museo basilica San Sebastiano di Aci Reale verrà eccezionalmente esposto al pubblico il completo dei paramenti eseguiti con ricchi ricami in oro su rete d'oro realizzati nella seconda metà dell'ottocento. Per l'esposizione verrà ricostruito all'interno del museo un altare tridentino e un momento specifico della messa di San Pio V con l'ausilio di manichine e di altri preziosi arredi. Domani invece alle 15 e 30 nel cimitero di Aci Reale si rinnoverà l'ormai tradizionale appuntamento con la via Crucis animata dalle confraternite cittadine come ogni terzo venerdì di quaresima una tradizione dunque che si rinnova. La via Crucis sarà guidata come lo scorso anno da Don Venerando Licciardello arciprete parroco di San Michele responsabile diocesano per le confraternite. Ci spostiamo a Giarre ieri convegno regionale per agenti di polizia municipale. Il teatro Rex di Giarre ieri ha ospitato un convegno regionale per agenti di polizia municipale organizzato dal locale comando della polizia municipale insieme all'Infopol. Tra la mattinata e il pomeriggio oltre 200 agenti provenienti da quasi tutte le province siciliane hanno partecipato all'evento formativo. È il secondo anno consecutivo che Giarre ospita questa iniziativa. Relatore è stato il comandante della polizia municipale di Monza Alessandro Casale insieme al reparto operativo informativo del corpo polizia municipale di Messina che ha presentato un innovativo programma informatico di grande supporto agli agenti. Questo è il secondo anno facciamo questo convegno che a livello regionale e mi ha visto la partecipazione di tutti i colleghi del provincia della Sicilia e abbiamo passato alla prima fase che era quella dell'incidente di rilevazione di verbali, rilevazione incidenti e quindi rilevazione di verbali e siamo passati alla seconda fase che è quella giurisprudenziale con le ultime novità della giurisprudenza, soprattutto con le ultime esendenze della Corte di Cassazione dove ci chiarisce un po' quello che è il nostro operato sulla strada. Domenica prossima alle 17 nel salone del Palazzo del Turismo ad Acireale premiazione delle vincitrici del concorso letterario Racconti di Donne, prima edizione del concorso letterario organizzato dall'Associazione Culturale ACI Gaia. Domani pomeriggio invece nell'aula magna del liceo scientifico l'Associazione Culturale Archimede presenterà il libro dello chef Franco Pulvirenti dal titolo Upanzaroccuto, relaziona la giornalista Marinella Arcidiacono. Sabato invece, pomeriggio alle 17.30 presso la Certosa dei Cavalieri a Balatelle di Acireale verrà presentato il volume Il frammento mancante di Daniela Trovato. Adesso invece ci occupiamo di un momento culturale di rilievo organizzato nei giorni scorsi ad Acireale dalla Fidapa di Acireale. L'iniziativa si è svolta al San Biagio Resort dove si è parlato di donne, arte, tra visione e identità. La presidente della Fidapa, maestro Vera Pulvirenti, ha chiamato una relatrice d'eccezione come la professoressa Leda Vasta, storico dell'arte, che si è avvalsa di una numerosa proiezione di immagini. Le donne nell'arte, è stato spiegato, hanno sempre fatto molta fatica per trovare il giusto spazio e ancora oggi, nonostante le accademie accolgano ormai donne per la stragrande maggioranza, le grandi esposizioni ufficiali rispecchiano una tradizione artistica per la maggior parte maschile. Dunque, nonostante la dedizione delle donne per l'arte, sono ancora poche quelle che riescono a raggiungere obiettivi importanti. La storia dell'arte infatti ha spesso penalizzato la figura dell'artista donna da Sofonisba Anguissola a Marina Abramovic. Tuttavia ci sono state però tante artiste brave quanto gli uomini trascurate o dimenticate. È una piacevole serata nell'insieme che ha favorito un vivace dibattito tra il relatore e le numerose persone presenti in sala. E adesso andiamo a chiudere invece con la pagina sportiva. Parliamo di calcio, un recupero importante. Ieri al tuparello per la Cireale, per il torneo di eccellenza, una vittoria che avvicina i Granata al terzo posto. Vittoria di rigore come a Paternone, l'ultima partita utile lo scorso 15 febbraio e tre punti importantissimi in chiave playoff con il terzo posto adesso lontano, solamente tre punti. E ancora Paolo Messina dal dischetto a regalare gioia ai Granata grazie al terzo calcio di rigore nelle ultime quattro uscite, stavolta per fallo su un funambolico parachi che insieme a Sinatra, il maradonino dell'Etna, sta dimostrando di essere entrato ormai a pieno negli schemi di Salvoricca. Così come Nicolosi ancora lontano dalla forma migliore ma ieri in campo per un'ora scarsa di rientro dal brutto infortunio alla spalla procuratosi proprio nella gara d'andata contro il Modica del 2 novembre 2014. Basta dunque un rigore trasformato da Messina di inizio ripresa per piegare un Modica presentatosi al tuparello al Gran Completo con i senior di mister Filicetti tutti rientrati dopo l'ammutinamento degli ultimi tempi per frizioni con la società. Un rigore e poi la gestione del risultato e delle energie perché fra quattro giorni la Ciriale torna in campo, c'è la trasferta di Rosolini contro un'altra squadra a caccia di speranze e salvezze ma stavolta lontano dal pubblico di casa. Serviranno i tre punti però ai ragazzi di Salvoricca per arrivare allo scontro diretto col Milazzo del 15 marzo a pari punti considerato che domenica la formazione mamertina riposa. Da una parte sono contento perché era importante vincere, dall'altra sicuramente dovevamo sfruttare meglio le occasioni che avevamo avuto e soprattutto dobbiamo essere più bravi a chiudere le partite perché le occasioni ce le abbiamo avute, le situazioni di gioco sono state sviluppate in maniera buona per quello che si può fare in un campo del genere però va bene dai, l'importante è crederci fino alla fine, non mollare e questa squadra si può rimproverare tutto ma questo sicuramente no. Negli altri recuperi di ieri poi notizie positive da Castelbuono dove la formazione locale è stata affermata sull'1-1 dal Città di Messina lasciando così in solitaria la Cireale al quarto posto ma di Gia Virtus ha espugnato vittoria vincendo 3-1 e rimanendo a meno 1 dai Granata. Mercoledì di recuperi poi anche in promozione dove il Realaci ha perso a Troina arrestando temporaneamente la rincorsa playoff lontani. Comunque solamente un punto per gli uomini di Marchetti che ieri hanno sprecato un calcio di rigore sullo 0-0 con Anastasi e poi hanno subito il ritorno dei padroni di casa che hanno segnato e vinto con l'ex Cireale Marletta e Meta. Il giudice sportivo invece sorride all'ACI Sant'Antonio accogliendo il reclamo del club biancazzurro in merito al pari dello scorso 8 febbraio con il San Filippo del Mela e guadagnando due punti che rilanciano le ambizioni playoff della formazione sant'antonese. Giudice sportivo che ha annullato poi anche un altro pari del San Filippo del Mela, quello contro il Città di Randazzo della domenica precedente, il primo di febbraio. Un punto di penalizzazione invece all'ACI San Filippo che domenica non si è presentato a Torregrotta. In seconda categoria infine il Tremestieri Etneo ha perso ieri a Cerami contro la SD Viola per 2 a 1, arrestando la sua corsa playoff, mentre ancora il giudice sportivo ha inflitto lo 0-3 a tavolino al Città di Pedara nella gara di quattro giorni fa contro il Real Adrano che in classifica si porta così ad un solo punto dal Mascaluccia secondo. Andiamo a chiudere, lo facciamo con le previsioni meteo per la giornata di domani. Giornata poco nuvolosa al mattino che lascerà spazio alle piogge del pomeriggio e della serata, venti prevalentemente deboli, temperature in calo tra 8 e 12 gradi, mari poco mossi. Vi ricordo in chiusura la nostra pagina Facebook Etne Espresso Channel trattino TG Reporter per rivedere i nostri notiziari, per farci avere le vostre segnalazioni. TG Reporter che torna domani alle 13.40. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS